Io per chiarirmi le idee, l'altro giorno sono andato a ripescare questo vecchio libro, un capolavoro di fantasia e umorismo. Si chiama Costituzione della Repubblica Italiana. Cominciamo dall'inizio. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere. Non mi interessa la lezione O forse sono io che non interesso alla lezione Al professore morto nello spazio Tra un esame e un altro E no, non guardarmi con quegli occhi Forse è meglio che non mi guarda Ti fai fare il testimone perché ti ho fregato la figurina di Boninsegna? È questa la verità, è questa, capito? Ma io non ce l'ho neanche pensato a Boninsegna. Allora scusa ma mi sfugge il motivo, io non capisco il motivo per cui non posso fare il testimone. Senti, la nostra sarà una cerimonia del tutto informale, dieci, venti minuti al massimo. Certo, però saranno i dieci, venti minuti più importanti della tua vita. E io non ci sarò. Scusate, ma di che stiamo a parlare? Della tazza patrimoniale, Graziani, l'ho appena detto, the wedding dream. Ma come, l'unico posto dove posso stare tranquillo senza mia moglie è il cesso e me la devo portare pure là. Questa si chiama negazione. Ragazzi, ma che ci venite a fare dallo psicologo se poi non apprendete? Alla faccia della moda che ci vuole tutti, giovani e belli Alla faccia dell'Italia che ci vuole vivi e basta Io non ho più voglia di imparare Io non ho più voglia di capire E di sapere niente Tanto a cosa mi serve Ma ci hanno preparato un buffet qui dietro, vogliamo approfittarne tutti insieme? Venite, seguitemi Grazie 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 Grazie